mario sonic ai giochi olimpici di rio 2016 ciao amica se ne venuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su mario e stavate chiede agli olimpici di rio 2016 allora dovete subito notare prima di dire un'altra cosa che è la versione demo quindi insomma vediamo un pochino poi un giorno lo comprerò e magari ci farò altri video perché alcune cose nella demo ovviamente sono bloccate come potete sapere comunque ovviamente questo è un gioco dell'avvio e qui siamo in compagnia di mio padre ciao ok vediamo un pochino cosa possiamo fare ok vai visto che non è la versione demo ok ah però io non devo usare il controller ok vai ci proviamo ma due persone perché ho sbagliato quindi abbiamo soltanto sbloccato il calcio che poi alla fine è normale non è sfida proprio rugby e sfida a bici non è che sinceramente non mi piace sì sinceramente e poi abbiamo anche sbloccato il nuoto poi tutte le altre cose ovviamente le più belle sono bloccate però è ovvio che si va più che giusto comunque alla fine però calcio carino dai sì infatti allora oggi lo facciamo però direi di alzare un po' c'è anche un difficile perché normale qua è troppo facile e vai anzi se comunque giochiamo noi due è appunto secondo me dovremmo giocare uno contro uno in modo che ci divertiamo di più io vizio io che posso prendere e lei e ok ah perchè devi usare questo va qui ah infatti mi sembrava altro perchè l'hanno sblocato cioè l'hanno sblocato perchè l'hanno sblocato io ne ho scelti due certo ah comunque sono obbligato scelghi tu scelghi tu due e poi almeno siamo pari diciamo va questo questo poi scelgo questo e dove sta rosa e donkey gong ma era un suo inizio brutto daddi quindi hai scelto mario no daddy Ma diiii, lasciami ne uno, io sto dicendo Che vuoi? Come faccio ad andare indietro? Diiii, però sceglimi ne uno bello, sceglimi questo e questo Allora, aspetta Io dovete sapere che io non scelgo, che magari sono forti, sono blu Insomma io sceglimi se è bello, mi piace il giocatore Vedi, ma quale vuoi? Mi sono di due Mi sono di due, quindi questo ti sceglieri Allora, te lo togli questo? Quello che vuoi, scegli questo o scegli questo? Se non ci vado Aspetta, va andato così, ecco qua Poi ti hanno ancora B, B, B Ti do gli dà la sicura? Ok, no B, B, B No, no, è B, è uno Ma non... Ah, è Ticci uno Flicca uno Aspetta, fai dicendo Flicca uno Calma, stai calma Fai girare Quando uno perdi lo stesso Non è che ti prendi i migliori giocatori e vincere Perfetto Ti credi tu Flicca uno Ok, ho lavorato uno Allora Premi B Ok Tu premi uno I passaggi della falsa Ma non succedono Mi presta un cavolo Prima di strategia Vabbè, anche interessa Un cavolo Premi a mettere la palla Un cavolo Un cavolo Che si è un avversario Trangla di regola Vabbè, ovvio Durante i calzi di rigore Va b, eh Non credo Panverà Che io vingo È ovvio Forse Premi a una volta Per scivolare Se la fai da dietro Metterai un pallo Non tosperuto Ok Io devo ripetere prima il tasto Allora Chio di Pizzi contro Squadra di Mario Ok Ok, difensivo, tutti i compagni scattano a prendere la palla, i compagni 2 e 3 scattano a prendere la palla, il numero 4 Io sono pronto vai, non mi servono le strategie, tutte queste strategie, perché tanto perdi comunque, perdi comunque Intercettazioni, che significa? Per intercettare la palla Che significa però? Che praticamente tra un passaggio, tra un avversario e un altro avversario, mentre tu ti la palla, lui intercetta, si mette in mezzo e prende la palla Capisce subito l'intenzione dove stai tirando la palla, quindi è intercettazione Ok, allora lascio questo, bene bene, non so se questi lasciano così, quindi è diventato così da Ok Non ho spiegato molto bene, però è no Ok Ok, quindi aspetta, qual'è quella che mi scivolava a me? Oh, dove si accade? Oh, non ci provare No, è il mio quello, che schifo No, 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 che rimbambita Non importa là Guarda, non importa, quella è proprio Stavo a dormire Ma cosa stai perdendo su? C'è tante le mie squadre Scusa Ma il passaggio quale è qua a me? Eeeh, uno Guarda Nooo Intercettazione Oh Successo, dai Dove sta il giovedere? Ma dai Mamma mia, che schifo Guarda, io mi riprende bene I passaggi e quei disi perché io non ci sto capendo Assolutamente Non ci sto capendo Non ci sto capendo Ho incrociato perfettamente il tiro Ma no, ho passato la palla Ho sbagliato Ho sbagliato Mamma mia, invece di passare la palla Invece di tirare ho passato la palla Mamma mia Ah, ah, ah Boom Nooo Uh, oh, oh, oh Basta Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Boom Ma dai Che bascavolo Ma Che sedere Che sedere Secondo te Poi io non cambio Perché sto vincendo Quindi Ma dai Ma non si può giocare così però No, no, no Oh Che faccio di rigore Che ti fa fatto niente Nooo Io che te premio Ciao Ne Le calta se tuvi teni premuta da dove volevi andare Infatti è premuta a destra Guardate che cosa bella Vabbè basta va Ho fatto giocare Bella tranquilla Ok Tutto qua Bla 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 Ma non mi dirà Ma con che cavolo devo dirà Non lo so Con due ne sa E ho fatto Vabbà E beh Che vuoi scusami eh Ho sbagliato No Dove va quello Ciao Ciao Che schifo Ciao Ma non mi dirà Che sbatto in terra questo eh Lo butto a terra eh No perché no Lo butto a terra eh Lo butto a terra Papà No non è giusto No non mi dirà sto robo a terra Coretto Mannaggia a te Mi è passata ragazzi Sì ma no Oddio che cavolo è successo Ti poi gli ha sbattuto in testa Quella e se mi è andata Tipo la palla No Oh Tattica Veloce Siamo comunque Vincendo 4 a 1 Fammi capire i tasti Che poi la sfida Li facciamo Poi tu c'hai un vantaggio Con il gamepad Che è più sensibile Io con il gesto Che così Un po' Strategico Non lo stava succedendo Allora Comunque io l'ho vista Che si scivola sopra Una buccia di banana Ma si Sei sopra un piede gigante No io l'ho vista Che si scivola sopra Una buccia di banana Ehi Per poco eh No Con tutto ciò che c'è il passaggio Sopra i piedi No Ma come ti è un po' scaduto Mannaggia Comunque ho vinto Che meraviglia Vorresti provare il rugby o pizball E io vuoi di provare Ma sinceramente il gigapesco Vabbè vorremmo il rugby Dai Però ti porto per qua Tanto facciamo Io mi prendo sempre questi Io c'ho Eh sì Sì fai con gola Andiamo Lo vuoi tu Ne prendo una No 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 Non è niente Tu ti vuoi prendere questo Che è più veloce Mi prendo Mario Che è un po' più lento No Per me va bene così Ok 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 Devi mettere Mario pure Ah tu sta Ah non l'ho preso Tettura Tettura Quindi Squadra di pizza E contro Squadra di I tasti Siamo i quali sono I tasti sono i quali sono I tasti no Allora Prendi A per calciare la palla E cominciare la partita Mi ho posto per te però Però ho due Ah ok Quindi per calciare la palla Premi A per calciare la palla Mandarla tra i pali Premi B per fare un passaggio Un giro a calciare la palla avanti Premi A nell'area di meta Una meta da 5 punti Poi tendo la trasformazione Da 2 punti E una difesa E una difesa Premi 2 O A per calciare un avversario Se ti placano Premi B Per forza la palla Premi B O L Per evitare un placcaggio E per guadagnare un turbo Poi i placcaggi possono concludersi Con una misca E la squadra con più giocatori Nella misca E poi nella palla Ok Mettiamo un pochino Ah ok Possiamo anche scegliere sempre La pratica Schivata C'è un'altra più schivata Sto inizio Però è lentissimo L'accaggio ce n'è un po' di più Non saprei Devo essere sincera Vabbè Teniamo questi Vai Vabbè 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 Rimaniamo così Anche se i loro due Sono un po' più lenti Però non importa Vai Iniziamo sta partita Non ci sono così Gatti Vabbè Ho sbagliato Ho cliccato Ai mesi che due No Hai vinto tu la palla Sono una persona sola io Non vado Dai No Vai che tu sei più veloce Oh E vai così Vai così Io non mi ricordo come Faccia fare il salto Fuori Buonissimo Che due Mi esassi Vediamo un pochino Se tu ti uscirai A prendere la palla Vabbè Vabbè Non la prendiamo in forza Finirò Sfigavanto Sono un po' Devi prendere il B Se vuoi fare Se vuoi Evitare il placaggio Ah ok Ecco vedi Dopo la niente dove si casa Io non posso un po' No Perché la lancia da caso Mi spiego Dai la lancia da caso No No Sì Devi prendere due Due devi prendere Due devi prendere Sì Devi prendere due Devi clicca tasti Glicca due tante volte Eeeh Ho vinto io Eeeh Questa non è mai successa però La prima volta Che siamo andati in linea Quasi sul fa Sulla linea di Della meta Oh Un giro il buscatore Per fortuna Devi clicca due Per fare la meta Eeeh Per fare il pubblico Ecco perché non ce l'ha fatta Mannaggia Non è giusto però Ma sta un po' così bruttissimo E perché? Perché mi ce l'ho scontato Hai sto maurato? Peggio di me Che velocità Super velocità c'ha Cosa? Ah ok No perché mi sembra che potevo lanciare anche da là Dove? Facevo così E non ce l'ha mai ricordo Se era convinto Preciso Cioè Più facile di così Più facile di così Dai Non mi dobbiamo giocare In un citato Ma io sono una cacchetta Sono Scusa me Mi dobbiamo giocare In un citato Dai Dai Mi bevi Mi bevi Ah già Ah cosa ti da? Mamma mia No Ma quello tanto alto È un salame Secondo me E devi vedere Quando cliccare Diciamo E beh Capito che Dai Boom Ma non è giusto però Devi trovare la strategia Sia a calcio che No Non è giusto E così Fuori Fuori Dai 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 Sì Cioè Papà 21 a 0 Lo so Vabbè Ti riprendi la mano Che poi comunque io Sui giochi Non mi scopro mai niente Cioè Terapeuta per un po' se riesco a giocare buah però è lì devi cliccare B quando ti vedo ti sto affaccando oh cioè insomma però devi trovare il momento giusto per farlo se non puoi saltare a caso se no ti prendo così dai dai vinciamo noi che siamo due anche se tu sei il gigante figlio è partita nooo volevo partire altri sette punti no no vabbè dai vabbè io direi che possiamo fermarci qua questa è la mia vita prossima secondo me adesso ci facciamo un paio di partite senza registrare niente va bene così imparo bene i tasti ok ragazzi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate mi piace commentate iscriviti al canale se hai quello nuovo di fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti